Una volta arrivati, prenderai tu in mano la trattativa. Che ci credi o no, mi è già capitato. So come vanno queste cose. In un mondo segreto, nella città. Hai mai trattato con i giapponesi prima donna? Questa non è una trattativa, è un omicidio. Sul campo di battaglia degli affari internazionali. Abbiamo un omicidio qui e voglio risolverlo. Questa non è l'America, questo è il loro mondo segreto. Casa di piacere dove tengono le loro amanti. E niente è più ingannevole della verità. Beh, vede in Giappone, chi si accusa di un omicidio non è detto che sia stato lui a commettere. Allora a che punto siamo? Siamo in zona di guerra. Sean Connery Wesley Snipes Sollevante Tollevante Grazie a tutti.